Italian Padel, produttori di campi da padel. Cosa farete quest'anno all'interno di questa quarta edizione del progetto del Cold Hill? Noi partecipiamo per il terzo anno con la possibilità di permettere a tutti i bambini delle scuole di poter giocare sui campi installati nella provincia di Brescia, che oggi sono 14 e ci sono stati già più di 750 bambini che hanno provato questa esperienza per cui è un'esperienza che sta piacendo molto sia a loro che ai loro insegnanti. La descriva, che cos'è l'esperienza? Di cosa si trova? Il padel è uno sport che sta partendo tantissimo, sta partendo in 70 paesi del mondo, è uno sport che è molto immediato, molto sociale, per cui anche i bambini riescono a fare gioco di squadra, a fare gruppo, è molto divertente perché appunto non richiede grande fisicità e grandi cose, per cui è uno sport adatto a tutti. Quindi quarta edizione torna a questo progetto Scuola della Coldiretti, la Coldiretti sempre attenta a diffondere la cultura del cibo sano anche cominciando dalle scuole. Sì, l'importanza del diffondere quelle che sono le nostre tradizioni, quello che è la grande qualità del cibo italiano, ovviamente oggi è sempre più coniugata con quella che è anche la qualità della vita, quindi i temi di carattere ambientale, i temi di carattere culturale, è un grande lavoro in sinergia anche con Brescia Musei e soprattutto la possibilità di estendere ulteriormente tutto ciò che muove l'attività sportiva. Riuscire a fare tutto questo significa garantire un futuro di qualità alle nuove generazioni e ai bambini di oggi ma che saranno i cittadini di domani.